Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano, oggi secondo video di giornata e oggi andiamo a parlare di un argomento che sicuramente ci può dividere, un argomento divisivo come tanti negli ultimi giorni, ma non parliamo di Massimiliano Allegri, non parliamo di Massimiliano Allegri se non in seconda persona, anzi in terza persona, Allegri lo lasciamo un attimino in disparte in questa vicenda perché fondamentalmente c'entra solo in parte, però c'entra sempre allora, prima di cominciare mettiamo tutti un bel like, condividete il video, attivate la campanella per non perdervi ulteriori aggiornamenti su Calcio Mercato e Mondo Juventus e commentate e iscrivetevi al canale, commentate mi raccomando in maniera educata non fate i charlatani o i beceri perché se no vi elimino il commento e poi al secondo vi banno proprio senza nessun problema allora, veniamo a noi oggi è la giornata di Federico Chiesa perché Federico Chiesa? perché Chiesa che ha un contratto di scadenza nel 2025 quindi fra un anno e quattro mesi a giugno 2025 la Juventus rischia di perderlo a zero se non trova una quadra sul contratto e visto che le distanze sembrano sempre più ampie tra la Juventus e Chiesa, quindi tra domanda e offerta il giocatore e l'entourage vogliono X, la Juventus offre Y perché sta valutando anche le garanzie dal punto di vista non solo tecnico e tattico ma anche dal punto di vista fisico e diciamo che Chiesa non è più così convinto di voler rimanere alla Juventus ma lo capisco, lo capisco andiamo a parlare del perché anche non è convinto allora parliamoci chiaro che Chiesa non sia diciamo dalla parte di Massimiliano Allegri in quanto allenatore ormai tutti lo sanno anche i muri però c'è chi vuol far finta ancora che si vada tutti d'amore e d'accordo però Chiesa ha fatto capire più volte in uscite televisive sia riguardo a Magnanelli del gioco offensivo sia riguardo a Spalletti sempre del gioco offensivo che lui sa e vuole giocare nella sua posizione, nel suo ruolo e Allegri fa tutto il contrario quindi di conseguenza possiamo capire che non ci sia proprio un rapporto idyllico tra i due detto questo c'è anche una squadra importante che si fa sotto, è già dall'anno scorso e se ne parla per l'erede di Salah quindi il Liverpool è intenzionato a prendere Chiesa come post-Salah ora, il giocatore non è così integro però si può valutare su una base di, si parla di 45 milioni circa io vi dico la verità, se non rinnova a giugno manca un anno alla scadenza 45 milioni non te li dà nessuno quindi io penserei più ai 30 però si potrebbe anche optare per un rinnovo ovviamente simbolico per un altro anno come ringraziamento alla Juventus che ha tenuto Federico Chiesa fino a che non si è rimesso dall'infortunio l'ha aspettato gli ha dato le sue possibilità ovviamente con un allenatore che tutti sappiamo che con un 3-5-2 Chiesa è limitato perché Chiesa non può fare il quinto di centrocampo e non può neanche fare la punta poi si adatta per carità, si adattano tutti ma non mi dite che uno si adatta se è un campione e chi non si adatta non è un campione perché non è così perché è come se un Del Piero lo mettevi nelle posizioni punta o seconda punta trequartista o attaccante esterno ci sta ma non lo puoi mettere quinto di centrocampo o mezzala e poi il Del Piero è un campione però si può adattare fino a un certo punto come Chiesa non fa proprio pena come seconda punta ma sicuramente non è il suo habitat naturale ecco quindi sono una serie di motivi che spingono la Juventus a vagliare l'opzione Liverpool e soprattutto anche di fare una valutazione a Chiesa su quello che può essere il suo futuro ovviamente dobbiamo parlare di un campionato completamente diverso molto più intenso e competitivo come la Premier League però sicuramente ci sono anche allenamenti diversi che potrebbero far ritrovare a Chiesa una delle forme migliori almeno per gli ultimi due o tre anni altissimi livelli di carriera ecco quindi Chiesa può essere buono per il Liverpool per l'immediato e altra cosa in Inghilterra se guardiamo un po' le partite si creano molti più spazi ci sa molti più spazi sulle fasce io vedo Chiesa secondo me un giocatore per l'appunto è un giocatore un po' come Salah che ha bisogno degli spazi forse Salah è più tecnico e Chiesa è un po' più fisico Chiesa è molto testa bassa invece Salah ha anche un po' più di consapevolezza forse anche vista l'età e visti i risultati ottenuti con i vari club soprattutto con Liverpool perché da quando è andato via da Roma diciamo già si era visto cosa era Salah in Italia ma poi in Premier ha fatto veramente passi da gigante ecco quindi Chiesa potrebbe lasciare la Juventus come vi abbiamo sempre detto è l'indiziato numero uno in questo momento perché anche se dovesse arrivare il prossimo anno un allenatore faccio un esempio che non usa il 3-5-2 ok io credo che useremo il 3-5-2 inizialmente anche il prossimo anno perché credo sempre che arrivi Antonio Conte poi mi posso sbagliare ma se arrivasse uno che usa il 4-3-3 comunque e si fa un esborso per un allenatore o per diversi giocatori da acquistare per l'allenatore che verrà io non credo che si tenga si possa rinnovare un chiesa a 5 milioni quindi aumentando ancora di più andando verso i 6-7 un chiesa che non ti dà garanzie dal punto di vista fisico quindi non lo so secondo me è un rischio è un rischio e credo che la Juventus in questo momento pensi a investire i soldi da un'altra parte quindi sia sul discorso giovani e giovanissimi sia su un discorso di staff no? parliamo di un allenatore poi bisogna vedere anche come finirà il rapporto tra Allegri e la Juventus perché se viene esonerato e lui non rinuncia all'ultimo anno di contratto c'è da pagare anche lui 7 milioni la base ma sono 7 milioni quindi se prendi un altro allenatore che prende la stessa cifra sono già 14 milioni quindi è come pagare per un anno un allenatore 14 milioni di euro diventano stipendi veramente da Premier League da Top Club europeo quindi non lo so non lo so vediamo un po' Chiesa secondo me andrà via molto probabilmente indipendentemente dall'allenatore che verrà e poi si potrà anche parlare di qualche acquisto anche perché è successa una cosa negli ultimi giorni che forse qualcuno non ci ha fatto caso ma noi ci abbiamo fatto caso grazie a dei nostri delle nostre persone che ci seguono dei nostri iscritti al canale ci hanno fatto notare una cosa su un attaccante un attaccante e ne parleremo proprio nel prossimo video di questo attaccante che in combo con qualcuno può arrivare alla Juventus e andremo a vedere se ci sono anche i margini per impostare una trattativa in base alla valutazione di mercato in base alla durata del contratto che ha però questo verrà spiegato tutto nel prossimo video e per questo che io vi dico sempre attivate la campanella perché non potete guardarne uno e poi perdervi il continuo nel video dopo quindi parliamo bene o male dello stesso argomento quindi il futuro della Juventus se volete capire qualcosa in più comunque sapere dal nostro punto di vista qualcosa in più seguiteci iscrivetevi al canale attivate mi raccomando la campanella condividete i video lasciate mi piace e commentate dicendoci quello che ne pensate sull'argomento mi raccomando quindi noi ci vediamo col prossimo video nel tardo pomeriggio inizio serata ma occhio perché Chiesa Chiesa è il maggiore indiziato ma può non essere l'unico bisogna vedere cosa succederà col prossimo allenatore quindi anche un discorso di difesa può essere rivalutato perché bisognerà capire se giocheremo a tre io credo inizialmente sì o se andremo direttamente a quattro dietro quindi anche lì verrebbe un po' stravolto il reparto difensivo perché come detto abbiamo dei giocatori più utili per i tre dietro e o se no esistono giocatori che si trovano meglio a quattro e quindi due centrali e i due terzini vediamo quello che succederà ne parleremo tutto nel prossimo e nei prossimi video mi raccomando fino alla fine Forza Juve ciao dal Gobbo Toscano